Poi lui ha fatto delle cose molto belle, tanto lui perché se lo avessimo dovuto fare veramente lo scassa nella sua maggiore prominenza e preminenza, l'avremmo fatto scassa Cagli, perché quello che lui ha fatto di più è Cagli, che è un artista che gliene fuori bene, forse più di quanto non si sapesse o si ricordasse della sua professione certamente artistica, e che in Arrasio perfino migliora. Quindi potrebbe essere stato Cagli scassa, ma anche Cagli oggi è insufficiente, mentre Boteo, basta un Boteo, ti fa bene. Quindi loro che sono effettivamente dei commercianti, che hanno utilizzato la voce di Sgarbi che conoscono tutti, Boteo che conoscono tutti sono in realtà dei mercanti di Venezia, che hanno detto che se ne fregano un cazzo di Scassa, di Cagli, dell'Adavanzo, diciamo, Boteo, Sgarbi, Cagli, una voce qua, un quadro là e vengono tutti. Questo è un capitolo, è un spirito diciamo.